Israele alla conquista dello spazio. L'azienda privata Space Seal ha annunciato il progetto di lancio di un veicolo spaziale israeliano verso la Luna. Secondo il programma, la navicella, che pesa 585 kg e non prevede ospiti a bordo, dovrebbe raggiungere il suolo del satellite della Terra il 13 febbraio del 2019. Il mezzo spaziale, che sarà lanciato in orbita attraverso un razzo della società SpaceX, avrà la missione di studiare le onde magnetiche e lunari, ma prima ancora avrà come obiettivo quello di fissare al suolo una bandiera israeliana. Realizzato da tre giovani ingegneri, il progetto di Space Seal è stato lanciato nel quadro di un concorso bandito da Google per incoraggiare le imprese del settore spaziale a organizzare missioni a basso costo sulla Luna. Space Seal ha preso parte al progetto in collaborazione con Israel Aerospace Industries, il più grande gruppo aeronautico pubblico israeliano. Stiamo lavorando al progetto da otto anni, ha spiegato il miliardario israeliano Morris Khan, presidente e maggior finanziatore di Space Seal. La missione costa circa 95 milioni di dollari, ha aggiunto Khan, che ha sottolineato come fino ad oggi solo Stati Uniti, Cina e Russia abbiano inviato mezzi spaziali sulla Luna. Space Seal mostrerà la strada al resto del mondo, ha concluso. Space Seal